Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi ho deciso di parlarvi dei miei libri sull'adozione, quelli che ho letto e che mi sento di consigliarvi. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! So che ormai parlando di adozione ci sono tante coppie che stanno adottando o che hanno adottato e che mi seguono e spesso mi vengono richiesti dei consigli sui libri da leggere proprio su questo argomento, sull'adozione. Quindi ho deciso di mostrarvi tutti quelli che ho letto e che possiedo e magari tra questi potreste trovare il libro che vi ispira e che vi potrebbe accompagnare in questo cammino. Partiamo con Un bimbo mi aspetta di Arnaldo Funaro. Questo libro è uno dei primi libri che ho letto sull'adozione ed è appunto scritto da un papà, da un babbo, noi lo chiamiamo babbo, che ha scritto una serie di lettere, tutte dedicate a questa figlia o a questo figlio che ancora non aveva incontrato. In realtà l'autore è anche colui che gestisce una pagina Facebook che ha lo stesso nome, Un bimbo mi aspetta, dove ci sono tantissime coppie adottive che si scambiano consigli e racconti insomma sull'adozione e che magari potrebbe essere interessante anche per voi. Oggi Arnaldo è diventato padre, però in questo libro racconta quella che è stata la sua attesa. Un'attesa sicuramente troppo lunga, perché per i genitori adottivi è sempre veramente troppo lunga e un'attesa fatta di tanto amore, perché lui attraverso queste lettere comincia a immaginare il giorno in cui avrà un figlio, che cosa gli insegnerà, come sarà la loro vita, che cosa gli offrirà, perché ovviamente descrive anche quella che è la sua vita sperando di vederla presto popolata da un bambino o una bambina. In questo caso lui poi è diventato padre di una splendida bambina. Quindi insomma un libro che accompagna nell'attesa in maniera molto dolce, dolcissima, e poi ci sono anche delle parti, ad esempio queste, con delle frasi proprio meravigliose, tutte da segnare e da rileggere ogni tanto per tirarsi su di morale, soprattutto nei momenti un po' più difficili. Altro libro che vi consiglio è Il mare non chiude mai, adottare tre bambini e restare allegri, di Amaltea, che in realtà è uno pseudonimo che ha usato l'autrice per rimanere anonima. Un libro piccolino ma assolutamente consigliato, a parte il titolo che è evocativo e bellissimo secondo me, in questo libro viene raccontato sì il viaggio per l'adozione, ma anche l'adozione vera e propria, perché questi due genitori hanno adottato tre fratelli russi. Quindi per chi ha un po' di dubbi anche riguardo a questo, perché sta affrontando questo percorso e ha a volte un po' paura, ecco che qui viene messo di fronte a una situazione che fa davvero paura, perché insomma trovarsi tre bambini all'improvviso in casa sicuramente non è semplice. Eppure l'autrice riesce a spiegarci perfettamente come hanno gestito le varie situazioni e come pian piano sono riusciti a formare una famiglia. Anche questo è un libro molto dolce che vi consiglio anche perché è scritto veramente molto bene. Vi parlo adesso del mio libro preferito in assoluto, quello che consiglio sempre a tutti. Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine di Tommy Di Bari. Questo è stato il primo libro che io abbia mai letto sull'adozione e vi racconto questo aneddoto perché quando l'ho terminato ero in fila dal dottore per farmi segnare quelle analisi del sangue che dovevo fare proprio per presentare la domanda di adozione. E mi è venuto da piangere, mi sono commossa alla fine del libro e c'era una signora nella sala d'attesa con me che mi guardava un po' storta per capire che cosa stava succedendo e io mi sono giustificata dicendo mi scusi ma questo libro mi ha emozionata e mi è venuto un po' da piangere insomma senza vergogna però per dire quanto è toccante questo libro. Devo dire che oggi mi sento ancora più legata perché la storia che racconta qui è la storia di un'adozione nazionale di una bambina se non erro qui la bambina ha otto anni invece la nostra ne ha sei però insomma è una storia davvero molto simile. Pensare che dopo cinque anni abbiamo un po' seguito le orme del primo libro che ho letto sull'adozione mi fa credere che nulla accade per caso ecco. In questo libro quindi Tommy racconta la loro attesa, l'attesa di lui e sua moglie ma anche tutto quello che c'è stato prima perché questa coppia come molte coppie in Italia ha prima cercato altre strade per riuscire ad avere un figlio e poi hanno deciso di approcciarsi all'adozione. Anche qui una lettura breve ma assolutamente indispensabile nelle vostre librerie se avete voglia di qualcosa di toccante e commovente. Altro libro sull'adozione, Il padre sospeso di Fabio Selini, letto con grandissimo piacere e oltretutto l'autore quando parlo di un suo libro nei miei video mi scrive sempre un commento e questo mi fa veramente molto piacere perché è bello insomma anche entrare in contatto con gli autori. Inoltre non so se avete notato ma la maggior parte dei libri che vi ho proposto sono scritti dai padri, dai babbi quindi questo fa capire quanto il percorso adottivo in realtà sia davvero distribuito al 50 e 50 tra le madri e i padri e appunto questa ne è la prova perché anche il padre lo vive in una maniera veramente molto profonda tanto da volerlo raccontare in un libro. In questo caso parliamo di attesa ed è quindi un libro incentrato sulla burocrazia italiana sugli uffici, sull'entrare in contatto con quelle persone che dovrebbero in realtà spianarti la strada ma che invece non fanno altro che creare ostacoli e che insomma tutti i genitori adottivi hanno dovuto affrontare per arrivare poi ad incontrare il loro bambino o la loro bambina. Il padre sospeso però qui lo fa in maniera anche a tratti ironica però io ho apprezzato il fatto che venissero messi in risalto veramente i problemi che ci sono in Italia per riuscire ad adottare un bambino quindi soprattutto l'incompetenza di alcune persone. Io sono sempre dell'idea che se ne parli troppo poco perché tantissimi genitori adottivi hanno a che fare con queste persone quindi sì lo fa con ironia ma con grande realismo e comunque ci fa capire che non ci sono ostacoli che un genitore adottivo non possa superare. Penultimo libro di questa lista è Incontro da Zaguas non so come si pronunci comunque Incontro di Acque di Mariella Groppi io in realtà questa signora l'ho conosciuta infatti ho la dedica all'interno del libro durante la presentazione di questo libro ad una fiera del libro di Firenze lei è madre di due fratelli brasiliani adottati quando erano piccolissimi ma adesso già grandi uno di loro addirittura quando l'ho conosciuto era diventato anche padre da poco quindi insomma racconta una storia di un'adozione avvenuta qualche anno fa questo libro racconta sia il percorso di adozione di questa coppia insomma che poi li ha portati a conoscere questi due splendidi bambini ma anche un grande approfondimento sul Brasile quindi il posto dove i suoi figli sono nati e che quindi tiene un pezzo anche del cuore di questa madre ma anche sicuramente di suo marito quindi io lo consiglio per chi ha magari scelto proprio il Sud America o il Brasile come luogo in cui presentare la propria domanda di adozione per un'adozione internazionale perché è davvero molto bello leggere su questo paese la sua storia, le sue tradizioni all'inizio addirittura anche le piccole difficoltà con la lingua che hanno avuto ovviamente quando hanno incontrato i propri figli è una storia d'amore non solo quindi verso questi due bambini ma anche verso la terra che li ha fatti nascere quindi insomma una lettura molto piacevole e poi Mariella è una signora fantastica che sono stata felice di aver conosciuto l'ultimo libro che vi propongo è Due figlie e altri animali feroci di Leo Ortolani ora io questo libro ce l'ho in libreria perché comunque mi fa piacere tenerlo ma se avete visto i miei vecchi video delle letture del mese sapete che io in realtà non l'ho proprio apprezzato in pieno ve lo voglio proporre perché è molto famoso soprattutto tra le coppie adottive e so che è piaciuto tanto quindi non voglio limitarvi e magari insomma voi potreste trovare piacevole anche la lettura di questo libro qui viene raccontata anche in questo caso la storia di un'adozione internazionale anche qui siamo in Sud America e viene fatta attraverso sia il racconto scritto che dei fumetti perché Leo Ortolani è un fumettista anche molto famoso perché è il creatore di Ratman quindi insomma sicuramente lo conoscete riconoscete anche il tratto bene appunto questo libro racconta sia la parte dell'attesa ma poco soprattutto è incentrato sui giorni che la coppia ha trascorso nel paese da dove provengono le loro figlie quindi anche qui un'adozione di due sorelle perché a me non è piaciuto tanto? perché ho trovato l'ironia dell'autore un po' forzata non sempre capivo le sue battute devo essere sincera e poi in generale non mi faceva ridere e quindi non l'ho trovato particolarmente piacevole inoltre io soprattutto nel periodo in cui ero in attesa preferivo libri che parlassero di quello che stavo vivendo mentre qui si parla proprio dell'adozione vera e propria quindi del momento in cui si incontrano le proprie figlie io avevo bisogno anche dei racconti di altre coppie che stavano vivendo quello che stavo vivendo io cioè una lunga attesa questo però non toglie che appunto il libro vi possa piacere vi possa far sorridere vi possa da una parte anche far commuovere per insomma il modo in cui questi genitori si trovano ad approcciarsi a queste bambine che hanno un bel caratterino e quindi insomma ve lo consiglio in ogni caso fatemi sapere se voi l'avete letto o se lo leggerete perché è sempre interessante avere anche la vostra opinione bene ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto ovviamente se in futuro leggerò altri libri sull'argomento ci sarà modo anche di condividerli con voi e se voi avete dei bei libri da suggerirmi sull'adozione scrivetemi perché così li recupererò e niente quindi vi saluto ci vediamo prestissimo con un altro video ciao 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 ciao